Il momento più toccante, più significativo, più importante della seconda edizione dell'Ability Day è stato quando Simona Azzori è salita sul palco. Simona Azzori è una persona veramente speciale, ci ha proposto due balletti in compagnia con la collega Eloisa Milletti, due balletti che hanno lasciato i ragazzi, i giovanissimi, a bocca aperta. Qualcuno ha avuto anche il viso rigato dalle lacrime, lacrime di commozione ma lacrime anche di gioia perché Simona sa regalare grandi momenti e io vorrei iniziare questa intervista con Simona ricordando una sua frase ormai divenuta famosa se avessi le braccia sarei un'altra persona e ciò non mi interessa. Innanzitutto buongiorno a tutti, è stato per me davvero un onore e un piacere partecipare alla seconda edizione dell'Ability Day e quindi io e Paolo Londi, il coreografo delle coreografie che abbiamo danzato questa mattina abbiamo accettato con molto entusiasmo e molto piacere l'invito di Jeff anche proprio per poter in qualche modo sottolineare il messaggio che c'è dietro poi la frase che tu hai appena detto che è quella appunto di dire che io non sarei quella che forse voi avete visto sul palcoscenico se fossi nata con due arti in più che tutti hanno che invece io in qualche modo, come scrisse Candido Cannavò nel suo libro Li chiamano disabili, sono rimasta in cielo. E Luisa, tu presti le braccia a Simona credo che sia veramente una gioia immensa per te che sei giovanissima a 17 anni. È fantastico questa emozione che provo con lei perché nella mia vita penso è la prima grande emozione che provo e ai 17 anni è un'immensa fortuna questo, è fantastico veramente. Simona, quando tu ti esibisci sui più importanti teatri ricordiamo che tu sei un personaggio come giustamente ci ha tenuto a sottolineare il tuo coreografo Paolo Londi, un personaggio internazionale che cosa provi? Provi sempre la stessa emozione? Ma l'emozione è sempre grande, è sempre forte ed è ciò che io desidero continuare a mantenere dico sempre a me stessa che non salirò più sul palcoscenico se non proverò l'emozione della prima volta e quindi ogni volta è un po' come la prima volta ma poi le emozioni cambiano colore, si trasformano diventano sempre forti e importanti però ogni volta è importante, non importa che io sia alla Fenice di Venezia o nel più piccolo teatro di provincia danzare mi dà un'emozione grandissima Si è detto, prima quando vedevano Simona dicevano è una ragazza senza braccia adesso invece dicono è una ballerina e questa è una grande conquista Sì, questa è una conquista straordinaria e importante per me, per le persone che mi stanno attorno per le persone che lavorano con me, per la mia famiglia ma credo che lo sia anche per tutte le altre persone che in qualche modo lottano o comunque desiderano essere visti per quello che sono per delle persone con delle capacità non per persone a cui possa mancare qualcosa o essere diversi dagli altri quindi è una piccola grande vittoria Simona non solo danza ma dipinge tu sei anche una grande pittrice Sì, ho questa doppia caratteristica di amare la danza e la pittura io da quando avevo otto anni faccio parte dell'associazione internazionale dei pittori che dipingono con la bocca e col piede in tutto il mondo e quindi ho avuto e ho la possibilità di fare mostre ovunque e anche la danza in qualche modo entra all'interno dei miei quadri e io porto la pittura nel palcoscenico una coreografia di Paolo Long di Legame in cui io dipingo anche in scena e quindi questo binomio che per me rappresenta proprio il mio modo di essere Eloisa, qual è il complimento più bello che hai ricevuto da Simona? Che sono bella che ho dei miei occhi e che riesco ad aiutarla e stargli vicino penso nel miglior modo in questo momento cerco di fare il possibile E invece qual è il complimento più bello che ha fatto Simona ad Eloisa? Ma io ad Eloisa ne faccio tanti e lei a me ci vogliamo molto bene non è da tantissimo che lavoriamo insieme ma è una ragazza giovane di talento e ha un cuore grandissimo ed è ciò che noi cerchiamo per accompagnarci in questo viaggio di danza prima di tutto ma anche di messaggi quindi lei in questo c'entra tantissimo e quindi è una bella collaborazione Grazie a Simona Azzori e a De Luisa Milletti per averci concesso questa esclusiva un'esclusiva che farà il giro del mondo tramite www.lamadalenatv.it Grazie un saluto a tutti quanti e alla Sardegna meravigliosa L'Ability Day la seconda giornata dell'abilità voluta fermamente da Jeff Onorato si è conclusa e noi siamo qui a raccontare le emozioni con Jeff Onorato e con Manuele Misiano che abbiamo visto sciare in maniera incredibile Penso di poter dire che ho appena sentito una cosa utopistica perché raccontare queste emozioni penso che sia quasi impossibile perché trovare le parole per tradurre fonicamente quello che io ho provato e come me penso tutti i presenti credo che sia veramente difficile possiamo dire che la sensazione è stata bellissima sei soddisfatto insomma anche dei tuoi ospiti Cordas e Cannas e Simona Azzori insomma c'è stato un po' di tutto e un grande seguito del pubblico dei giovani certamente il merito è logico che va condiviso con l'amico Carlo con il comune che ci ha dato una mano la marina che ci ha ospitato Lorenzo che si è prestato senza nulla chiedere a fare questa bella performance gli operatori tutti Peppe insomma tutte le persone che hanno dato un contributo io credo che dopo tirando le conclusioni possano dire è stato un piacere farlo ecco credo che sia molto più significativo di qualunque considerazione il primo che abbiamo visto nel filmato che hai proposto nel filmato di Millo in anteprima hai concesso di visionarlo agli amici del teatro il primo dicevo che ti ha abbracciato questo è stato questo Emanuele Manuele Manuele Misiano che è lui è un grande è un grande in tutti i sensi è un grande atleta perché perché è riuscito là dove nessuno è mai arrivato lui con Adriano ovviamente l'altro mio allievo che purtroppo oggi non era presente è diventato un po' l'atleta simbolo della scuola non a caso dicevo ai ragazzi 11 anni di lavoro per arrivare al risultato ma santo cielo se abbiamo aspettato tanto certo è che la soddisfazione che poi abbiamo raccolto nel successo ovviamente è proporzionale a tutte le energie che abbiamo speso provate ad immaginare quanto potrebbe essere sarà stata grande e adesso questa giornata dedicata ai diversamente abili e non solo grazie alla Maddalena TV punto it potranno vederla in tutto il mondo contributo io credo che quella nella vostra televisione soprattutto nel nostro ambito sul nostro territorio diventa fondamentale perché io scopro questo fenomeno che è straordinario la gente non sa questo la gente non sa perché la scuola è un fenomeno abbastanza circoscritto quindi molti ci passano davanti la scuola di Scinautico di Geo Fonorato Grande Campione Bim Bumbane tutto si esaurisce là la scuola è tutt'altro la scuola è un luogo dove trovano questi ragazzi delle grandi opportunità e trasformano la loro vita ma per avere un vero valore un valore veramente di livello esponenziale questa cosa va raccontata ecco che in questo caso Maddalena TV assume un ruolo fondamentale e noi gliene siamo grati il sorriso che non manca mai a Jeff per non farlo mancare a Emanuele a Emanuele cosa si fa? per i piedi Emanuele ha una ha una capacità diciamo riflessiva per quanto sia poco incline a parlare ma ha una grande capacità riflessiva e una grande capacità espressiva e lui con gli sguardi dice molto più che delle persone Emanuele abbracciamo assieme Jeff lo facciamo assieme un grande abbraccio per Jeff grazie Jeff grazie Emanuele grazie a tutti